Questa è l'esposizione universale della Live Voice Ciao a tutti ragazzi sono Noelle e oggi ci troviamo qui in queste palazzine abbandonate Ragazzi il drone eccolo qua ho preso la rete il drone ha cominciato a fare un giro strano si è fermato forse al secondo piano e caduto armo volo il drone intatto cioè il drone quando cadeva era disarmato Buongiorno a tutti da mano Oh è salvo La GoPro sta registrando uno strap si è però aperto la batteria si è un po' ammaccata e il drone però sembra non sta guarda qua si è rotto abbiamo fatto qualche danno paramotore l'abbiamo distrutto un'elica è partita come si dice quando si ha paura si beve un po' d'acqua ragazzi e noi beviamo un po' d'acqua per tranquillizzarsi il drone è un po' d'acqua ragazzi e noi beviamo un po' d'acqua ragazzi e noi beviamo un po' d'acqua ragazzi ragazzi bruttissima cosa lui è morto no amici dal bando 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 dunque questo posto ti permette di fare molta attività fisica sono andato molte volte a raccogliere il mio drone qui in mezzo ho fatto vari piani e ho fatto ovviamente tante tante cadute però veramente molto bello mi sono divertito molto ragazzi stiamo tornando è stata una bella esperienza una bella avventura sono salito forse non so quante volte su questi palazzi come è andata? dai com'è andata? bene bene dai siamo divertiti molto peccato che ha fiovuto fiovevano droni è un altro ermetto forse l'operaio è da queste parti ragazzi rinaccumando la tiburetta se venite dal bando ma questo è il casco di davide è scritto M davide M bello lo vuoi? lo so sì trova è brutto che se ne portiamo via una roba dal bando e non ci vediamo Panto look like a brave in the condo ecco for night in Toronto she said boy in Morocco ciao 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 ciao